Sia lodato Gesù Cristo. Un saluto carissimo a voi che ascoltate. Oggi il Signore ci dice, i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce. E li loda. Loda qualcuno che, comportandosi da figlio di questo mondo, entra a far parte dei figli della luce. Figlio di questo mondo vuol dire colui che vive e appartiene alla terra, a questo mondo, condivide con il mondo le scaltrezze, la capacità di sapersi muovere con destrezza in quelle che sono le vie di superficie, soprattutto sotterranee, delle relazioni, saper trarre dalla vita e dalle cose il maggior frutto possibile per avere una vita bella, interessante, movimentata, ricca di cose materiali, anche a costo della disonestà. Disonestà non solamente nei confronti di Dio, ma anche nei confronti degli uomini. Ebbene, i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce. Gesù lo dice. E questo perché hanno la capacità di comprendere qual è l'obiettivo, come arrivarci a tutti i costi, senza farsi, come dire, un impedimento, una barriera per quelle che sono le norme, le regole e via di questo passo. Nella parabola Gesù, infatti, parla di un amministratore disonesto che comunque viene denunciato e deve rendere conto e deve rendere conto di qualcosa di molto alto, la sua vita è rovinata. Nella parabola l'amministratore disonesto usa dei beni del proprietario, del padrone delle cose per cui egli lavora per potersi fare degli amici e poter così vivere. Bene, io ti faccio dei favori con i beni del padrone, ti tolgo dei debiti, tanto sono già stato accusato di disonestà, ci mettiamo d'accordo, tu non devi al padrone 100 barili d'olio, ne devi 50, sono somme notevole, o ad un altro la stessa cosa. E così sa che cosa fare dopo aver perso il lavoro, dopo aver perso il suo posto di amministratore, perché la sua vita è rovinata, ma avendo degli amici che gli devono qualcosa a tutti quanti, sicuramente egli riuscirà a vivere e a sopravvivere in modo dignitoso. Gesù loda questa condotta, ne fa un esempio, non per la disonestà ma per la scaltrezza riportata chiaramente alla capacità di comprendere che cos'è il regno di Dio e che cosa dunque si può fare per poterlo ottenere. Ci insegna il Signore ad essere disonesti? No, infatti egli dice i figli di questo mondo sono più scaltri nei confronti dei loro pari, ma non di Dio. Dunque Dio sa e conosce che tutti quanti noi siamo disonesti, siamo amministratori disonesti delle sue cose, perché la sua assenza fisica ci lascia pensare, presupporre, che tutto quello che c'è intorno a noi può diventare nostro, l'ostacolo sono gli altri nostri pari. E dunque chi più si fa largo nella vita ovviamente meglio riesce, anzi riceve anche gli onori, i tributi per essere considerato più bravo, più scarto, più intelligente, più capace, più audace, più determinato, più lungimirante, cose di questo genere. Queste qualità, che sono qualità che fanno fruttare nel mondo materiale, possono essere usate anche per il mondo che è di tipo spirituale. Ovvero, noi che usiamo delle cose di Dio cominciando dalla nostra vita materiale alle cose materiali fuori di noi e difficilmente le consideriamo di Dio, ma nostre, perché il potere con il quale ci confrontiamo è il potere umano, non di Dio, perché Dio gioca con passi più lunghi dei nostri, noi, una volta che abbiamo compreso qual è la vera vita e che stiamo per perdere l'amministratore, l'amministrazione, il posto di amministratori qui sulla Terra, abbiamo con questa intelligenza spirituale e intellettuale la possibilità di utilizzare i beni di questo mondo che sono di Dio ma che noi usiamo in modo disonesto perché li consideriamo nostri e li abbiamo sempre fatti considerate parte del nostro patrimonio, ebbene, noi abbiamo la possibilità di compiere delle opere che ci assicurano un futuro anche di là da questa vita. dunque noi possiamo con i beni materiali fare del bene ad altri e questo bene è un bene di tipo materiale ma con un'intenzione finalmente spirituale, cioè possiamo dire i beni non sono miei però li posso usare, faccio del bene e chi sta su forse mi guarderà e dirà tuttavia alla fine ti sei deciso a comprendere che sei solo un amministratore della tua vita, non sei il proprietario e che mi devi qualcosa e questo qualcosa che io voglio non sono i beni materiali perché tutto è già mio cosa potrei offrirmi in sacrificio, cose che sono già mie dice in un salmo che cos'è che vuole Dio da noi? L'offerta della nostra anima e l'offerta di atti di amore nei confronti dei nostri pari e dunque nei confronti suoi. Queste azioni di amore si compiono con il nostro corpo, con il nostro corpo, la nostra vita materiale qui e con i beni di questo mondo e se fino adesso abbiamo sbagliato nell'usarli per noi possiamo riconvertire tutte le ricchezze che abbiamo accumulato o i beni o ciò che la fortuna ci ha messo nelle mani per fare del bene materiale con una intenzione spirituale. Il bene per il bene senza nessun guadagno materiale ma cercando finalmente di guadagnare qualche cosa che riguarda la vita eterna cioè il bene spirituale. Questa intelligenza che ad esempio mostra Zaccheo e mostra Matteo Gabellieri se ho frodato restituirò anche di più darò le mie sostanze a chi ne ha bisogno costoro capiscono immediatamente che la vita è cambiata e non è semplicemente non avere più delle cose rispetto all'altro ma fare delle cose uno strumento per una legge d'amore che rimane per l'eternità. È questa l'astuzia dei figli di questo mondo che noi siamo chiamati ad imitare considerandoci non delle persone che in qualche modo sono oneste davanti a Dio ma persone che hanno bisogno di convertirci da questa idea che abbiamo che la vita è nostra che le cose sono nostre che c'è una giustizia e che dunque bisogna in qualche modo separare chi ci vuole frodare da noi che invece non frodiamo quando invece tutto quanto è di Dio la nostra vita è di Dio e quello che noi dobbiamo mettere in moto in questa vita è l'amore la carità l'amore verso Dio dare gloria a Dio tutto è tuo e tutto conduce a te e noi siamo debitori sempre e i fratelli che abbiamo attorno che sono l'occasione concreta con cui fare del bene finalmente servendo Dio perché siamo suoi amministratori e le sue cose non sono il fine per cui noi siamo qui noi non dobbiamo produrre maggior beni materiali perché tutto questo è di Dio lo ha prodotto Dio lo produce Dio anche attraverso noi mettendoci le cose favorevoli davanti noi siamo chiamati a produrre con le cose materiali delle cose che hanno valore nello spirito che sono gli atti di amore gli atti di carità le intenzioni pure Dio vi benedica grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.